E' un buongiorno anche a voi telespettatrici e telespettatori di Rossini TV qui con Buongiorno Rossini per augurarci il buongiorno assieme nella lettura, nell'approfondimento dei titoli, dei giornali del Corriere Adriatico e del resto del Carlino con qualche notizia di sport, tante le novità di oggi, tante le notizie protagoniste, alcune le avevamo anche viste ieri, diciamo che sono degli approfondimenti, degli sviluppi che sono avvenuti, andiamo però prima a guardare ciò che ci propone la nostra webcam come tutte le mattine, oggi siamo a Cagli nella piazza del mercato, un mercato che sta per prendere vita, l'insegna dei prodotti del territorio e anche di quella passeggiata, quel giro al mercato che fa sempre piacere a tutti e ovviamente le temperature come ci farà vedere il meteo sul territorio però ci dicono anche di fare attenzione sia quando andiamo al mercato ma in realtà per tutto l'arco della giornata continua la settimana più calda dell'anno secondo i dati, anche oggi si superano i 34 gradi come picco ma appunto quello che va a preoccupare è sempre la costante temperatura che per tutta la giornata rimane intorno ai 30 gradi, un po' di riposo, sollievo se così vogliamo dirlo lo vediamo giusto intorno alle 10-11 di sera con le temperature che iniziano a scendere sui 27 gradi e lo stesso clima ci accompagna anche nella regione Marche, una regione all'insegna del sole anche qui con temperature decisamente elevate come poi vedremo anche nell'approfondimento dei titoli dei giornali, l'AFA è protagonista non soltanto a livello di meteo per la città di Pesero la provincia e la regione ma anche e soprattutto purtroppo per i casi dovuti al grave caldo e partiamo proprio dai titoli dei giornali che ci mostrano come nel Corriere Adriatico e l'AFA appunto fa impennare i ricoveri, nell'arco di tre giorni pensate sfiorati gli 800 accessi nel pronto soccorso di Pesero e Fano, il responsabile cifre destinate a crescere se si prolunga l'ondata di calore quindi parliamo soltanto di Pesero e Fano, immaginiamoci il resto della provincia e della regione nel centro poi vediamo all'Adriatico appunto caldo come il mare rosso è la definizione che viene data, mentre sotto i titoli che parlano di Pesero raccontano dell'auditorium Scavolini, l'apertura della COP aggiungono a te, sarà pre dunque la COP nello storico auditorium che ha ripreso vita e sempre su Pesero, vele intrecciate, la stella famiglia di cui avevamo parlato anche ieri è stata ammainata, ecco appunto la vela, l'ammainamento è stata rimossa poi vedremo cosa accadrà alla struttura a Fano invece seminario e caserma, il risico delle aule per gli studenti in Olfi e il conseguente impegno preso dal neosindaco Serfilippi per trovare sistemazione 300 studenti sulla destra la notizia che riguarda tutta la regione il nuovo testimonial delle Marche, Gimbo e adesso si punta all'oro a Parigi e appena sotto in chiusura del Corriere Adriatico vediamo l'aggressione a Martellate, condanna a 5 anni e 4 mesi si tratta di quell'aggressione che avvenne nella zona di Fermignano per strada mentre il gestore del Marche stava andando al lavoro prima c'è stato un tentativo di investirlo e poi un'aggressione appunto a Martellate passiamo adesso al resto del Carlino che ci propone in apertura sempre l'allarme e siccità l'allarme e siccità è sempre peggio manca l'appello un quarto delle precipitazioni serve l'invaso ma la regione latita la toppa del Burano così viene definito il piano salvezza estrema per quanto riguarda il sistema idrico vedete nella foto principale appunto ciò di cui parlavamo prima anche tramite il Corriere condannato il martellatore aggredì selvaggiamente dopo una lite stradale un padre di famiglia a 5 anni di pena mentre sulla sinistra spazio all'evento Fiesta Globale a Montefabri si prepara l'invasione e alla regatta solidale le barche pescano fondi per l'Anfas mentre sulla destra ritorna il tema dell'AFA questa volta portato in campo dai sindacati lavorare con l'AFA in alcune fabbriche non si respira mentre sotto vediamo il gesto di un poliziotto che ha salvato un anziano che si gettava nella foglia vedremo poi anche con l'aiuto di un giovane ragazzo sudamericano e passiamo alla lettura dei giornali partendo proprio dal resto del Carlino che ci accompagna con la prima apertura dedicata al martellatore la pena aggredì un papà condannato a 5 anni per tentato omicidio tutto nacque da una banale lite su una strada di Ferminiano la parte resa Matteo Bastianelli dice non cercavo vendetta ora voglio guardare avanti la mia unica gioia è aver portato a casa la pelle presa appunto a martellate il direttore della conna di Ferminiano l'aggressore per una banale lite stradale ieri sera il tribunale di Urbino lo ha condannato con rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio il fatto avvenne nel 16 ottobre del 2023 subito sotto diciamo in basso sulla destra appunto la notizia di cui vi avevo accennato nella lettura dei titoli della poliziotto che ha salvato un anziano che voleva gettarsi nella foglia l'ex agente della mobile lo ha strappato dalla balaustra riportandolo in strada in foto vedete il ponte di via Ponchielli appunto il luogo da dove l'anziano voleva provare il suicidio tutto è avvenuto intorno alle 12 dunque un orario molto affollato di passaggio sul ponte di via Ponchielli lato mare il gesto estremo dell'anziano 77enne residente a Pesaro è stato bloccato da un giovane sui 20 anni di origine sudamericana e poi da un poliziotto della squadra mobile di Pesaro in pensione Paolo Carnevali 60 anni che lo vedete qui nella foto da queste notizie ritorniamo sul tema che praticamente ci sta accompagnando ormai da giorni ovvero quello dell'AFA quello del caldo estivo con l'apertura da parte dei sindacati le loro dichiarazioni lavorare a 40 gradi orari scelti e pause ma in certe fabbriche si fa fatica a respirare appunto qui c'è il punto scusate il gioco di parole della situazione con i sindacalisti nelle aziende in provincia lo grano della CGL afferma con più di 35 gradi si può usare la cassa integrazione però da noi questo ammortizzatore non è stato mai chiesto e andiamo a leggere in parte ciò che viene richiesto come organizzazioni sindacali abbiamo chiesto alla regione di introdurre una normativa così come hanno fatto altre regioni per evitare di lavorare dalle 12 fino alle 16 cioè sotto il cosiddetto Sol Leone stiamo girando in questo periodo in molte aziende e devo dire che le condizioni di lavoro non sono ottimali perché si opera con un caldo soffocante e umido dove è anche difficile respirare e questo appunto può gravare sulla condizione psicofisica dei lavoratori un appello al quale si aggiunge anche il Partito Democratico con Mastro Vincenzo della Commissione Sviluppo che si rivolge ad Acquaroli vietare le attività esterne nelle ore più roventi la richiesta è appunto la stessa avanzata dai sindacati cioè sollecitare una norma che vieti il lavoro tra le 12 e le 16 l'inalzamento delle temperature in questo giorno estivi ecco, motiva l'umidità prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per i lavoratori che svolgono le loro attività all'aperto in particolare per quelli che operano in agricoltura e in edilizia appunto viene proposta una norma fino al 31 agosto sempre sul tema della siccità ma non dell'AFA bensì in questo caso di un discorso idrico e di risorsa e al risparmio dell'acqua appunto leggiamo il titolo che riguarda la morsa della siccità fa sempre più male serve un invaso ma la regione latita a dirlo è il presidente dell'Ato Marco Ciccolini Ancona non ha un piano degli acquedotti e senza di quello per ora resta solo il Burano e appunto c'è la disponibilità idrica in provincia che secondo i dati dello storico osservatorio Serpieri di Urbino certifica come a giugno siano caduti 22,9 mm di pioggia in 5 giorni piovosi che rappresentano solo il 37% dei millimetri di pioggia e attesi manca dunque all'appello un quarto delle precipitazioni e il presidente dell'Ato appunto afferma come si rilevi che ad oggi la regione Marche non ha un piano degli acquedotti un documento che ad oggi non c'è e lo studio portato avanti dall'Ato può aiutare a superire a questa mancanza però appunto c'è bisogno di un intervento da parte della regione e parlando sempre di acqua spostiamoci nella pesarese in zone di mare di fatto il comune ripristinerà fontanelle e docce nell'arenile ma torna l'acqua nella spiaggia di Fiorenzuola anche il comune di Pesaro dopo la firma dell'ordinanza antispreco sull'acqua sta lavorando a interventi idrici che vadano a migliorare i servizi per residenti e turisti dopo l'installazione delle docce in Baia Flaminia e Sottomonte annuncia un altro intervento per ripristinare la rete idrica delle spiagge di Fiorenzuola di Focara dal tema dell'acqua ma da un tema del comune di Pesaro rimaniamo sempre a Pesaro non parliamo più dell'acqua torniamo a parlare di una notizia che anche ieri mattina avevamo affrontato su cui si erano sollevati anche alcuni commenti per cui vi invitiamo anche oggi appunto a dirci la vostra visto che tornerà il discorso sia dei fondi per le associazioni che anche quelli per appunto la struttura di Loreto che ieri abbiamo visto ha suscitato varie risposte da parte dei social per cui dopo finita la lettura prima dello sport andremo a leggerli dunque se volete dirci anche la vostra intanto appunto andiamo a vedere qui che si parla del comune tanti soldi due nomi stesso indirizzo da parte del comune il caso delle associazioni opera maestra e stella polare negli ultimi due anni e mezzo hanno ricevuto circa 330 mila euro finanziamenti comunali a più zeri ciò che appunto in questo caso fa notizia che abbiano lo stesso indirizzo della sede legale nel medesimo condominio di via pastrengo a pantano opera maestra di Stefano Esposto e stella porare che negli ultimi due anni e mezzo hanno ricevuto dal comune incarichi per 210 mila euro la prima 118 mila euro la seconda e abbiamo cercato senza esito la sede delle due associazioni appunto si legge qui sul giornale alla ricerca della targhetta di entrambe sui citofoni del condominio però abbiamo visto solo quello di privati cittadini c'era un esposto ma appunto non era il titolare di opera maestra e nelle cassette della posta non abbiamo visto menzione alcuna delle due associazioni culturali no profit sulla destra vediamo lo spazio dedicato all'incidente che c'è stato ieri intorno alle 19.30 scontro tra scooter due feriti uno è grave portato ad Ancona appunto alle 19.30 in Viale della Vittoria all'altezza dell'intersezione con via Leonardo Da Vinci è intervenuta l'eliambulanza uno dei feriti all'ospedale Torrette di Ancona l'altro con l'ambulanza invece è stato portato a Pesaro parliamo ora di bambini e di nidi soprattutto un tema che ritorna puntualmente in questa fase dell'anno bimbi esclusi dal nido mettetevi a Villabetti ci sarebbero otto posti l'asilo è diventato ambulatorio papà Costantini che vediamo qui nella foto chiede che senso abbia tutto questo a Pesaro di fatto mancano i posti nei nidi comunali a Villabetti invece lo spazio ci sarebbe se non fosse che l'asilo è impegnato dall'ambulatorio medico Daniele Costantini padre con due dei tre figli sotto i due anni appunto dice non me lo spiego a Villabetti c'è un asilo utile allo scopo di liberare almeno otto posti su Pesaro ma viene impegnato peraltro e subito a seguire appunto la voce e le parole di Marchionni Giulia Marchionni consigliera d'opposizione pesarese quattro piccoli in più al girotondo goccia nel mare il riferimento appunto è al fatto che l'amministrazione comunale pesarese creerà altri quattro posti in più e appunto lei la definisce una goccia nel mare se si pensa che la lista d'attesa conta almeno 130 bambini fuori dalla porta però è già qualcosa come dice Giulia Marchionni parliamo ora del tema uno dei forse di quelli più discussi della mattinata di ieri ovvero stele di tubi luci sui costi intanto arrivano i tiranti parliamo dell'opera che è stata presentata a Loreto nella rotatoria qui appunto il consigliere Redaelli di Fratelli d'Italia interroga sulla scultura nella rotatoria di Loreto intanto sono state smontate le vele saranno fissate per resistere al vento ed essere leggibili intanto vediamo un accenno dell'interrogazione che appunto Redaelli vuole portare l'opera collocata nella rotatoria sul largo Madonna di Loreto fa discutere genera interrogativi credo che sia importante che l'amministrazione risponda per quanto gli compete alle perplessità mostrate da alcuni cittadini e non solo sulla destra poi apriamo una breve parentesi per un lutto per quella che è la pubblica amministrazione morto a 79 anni Mario Maoloni fu capo gabinetto di Giovanelli ex sindacalista e direttore di banca era malato da tempo sempre notizie che arrivano dal territorio questa volta si parla di Confindustria giovani tecnici due anni di corso poi un futuro nelle grandi aziende Confindustria prepara le nuove leve per impiegarle in posizioni professionali altamente qualificate ingegneria e costruzione di grandi opere un'opportunità unica per prepararsi al mondo del lavoro si parla di 1700 ore teoriche dedicate a 25-30 ragazzi con un lavoro assicurato per il 90% dei partecipanti e si arriva anche a un tasso del 100% di occupazione stimata un accenno allo sport che però in questo caso non rientra soltanto nel mondo sportivo ma anche in quello sociale per cui appunto lo osserviamo adesso con l'evento dedicato agli stili di vita attivi che si svolge dal 19 al 21 prossimi allo smash di Baia Flaminia viaggio trasporto e solidarietà si gioca a padel si fa prevenzione contro il tumore al seno di fatto in questi giorni oltre a giocare ci saranno anche conferenze su esercizio fisico attività sportive diabete e prevenzioni su stili di vita attivi attraverso esperti come anche docenti dell'università di Urbino cambiamo città cambiamo comune spostiamoci a Fano dove soffia il vento della solidarietà quando la vela unisce appuntamento domenica con l'iniziativa organizzata dalla Rotary Club una regata che ha lo scopo di raccogliere fondi per il centro Itaca dell'Anfas sempre in tema sociale appena a seguire associazioni in prima linea disabilità e lavoro locali al mare più inclusivi ingaggiati tra i ragazzi grazie al progetto bagno di sole svolti tirocini anche nei confronti dei dipendenti si tratta di un ponte culturale tra le diverse abilità rimanendo nel clima della fanese è tornata l'acqua a Serrungarina dunque riprendiamo anche un discorso idrico ma questa volta per motivi differenti si scusa dice di aver fatto il possibile l'assessore Barniesi che si discolpa non mi sono disinteressato ho telefonato a Marche Multiservizi 5 volte l'acqua è ritornata ieri alle ore 12 dopo un disagio enorme durato quasi 26 ore a Orbino per concludere la lettura del Carlino Santa Chiara e la Bastione tornerà sicuro avviati i lavori di consolidamento da anni preoccupanti fessure facevano temere il peggio interventi anche sul teatro romano Santa Chiara punto interventi in corso un investimento di oltre 800 mila euro il primo stralcio si concentra sui giardini l'intervento provvederà al ripristino del danno e dell'aspetto del monumento così si conclude il Carlino prima di passare al mondo dello sport per cui andiamo appunto a vedere cosa invece ci racconta il Corriere Adriatico che apre come solito con le pagine dedicate alla regione vediamo appunto alcuni dei titoli più importanti a partire da quello che parla di Jimbo testimonial non vedevo l'ora viva i vinci sgrassi Tamberi ha firmato ieri il contratto amo la mia terra orgoglioso di rappresentarla l'accordo prevede uno shooting l'anno e la partecipazione a eventi nazionali e esteri sempre per quanto riguarda la regione Marche e qui ritorniamo nel tema che riguarda il caldo e l'afa bagni a 29 gradi Numana assomiglia al Mar Rosso e a terra caldo addirittura a 41.4 gradi temperature record in Adriatico e nell'introterra se ci spostiamo nella pagina alla destra del titolo vediamo come Pesaro non faccia esclusione da questi dati preoccupanti e pericolosi il livello di allerta infatti per oggi e anche per domani è dato ai 3 gradi concludiamo quelle che sono le pagine dedicate alla regione Marche con un dato sull'inflazione stabile Marche Virtuose e Ancona da podio la spesa aggiuntiva per famiglia è di 147 euro contro i 188 della media italiana e appena in basso qualcosa che riguarda proprio la nostra provincia con Cicciori prende 3 incarichi e Ricci fa selfie con Metzola il primo giorno di scuola a Strasburgo parte bene appunto per i erodeputati delle Marche tra appunto chi fa scorta di incarichi e chi invece si fa un selfie con la presidente del Parlamento Europeo parliamo adesso di Pesaro concentriamoci su ciò che riguarda principalmente la nostra provincia lo facciamo ritornando al tema dell'AFA record quasi 800 accessi in tre giorni nel pronto soccorso Pesaro e Fano sotto pressione titolo numeri destinati a crescere l'Ast aumenterà il personale ricognizione dei posti letto per recovery alla Santa Colomba ha svolto un corso di formazione per idratare gli anziani vediamo appunto in alto che come viene detto che anche domani il picco alle 14 sarà ancora di 33 gradi percepiti 35 oggi i percepiti arriveranno addirittura a 36 gradi di fianco ovviamente si parla del piano degli acquedotti poiché le risorse idriche sono un rebus queste le parole del presidente Ato che illustra gli interventi e le priorità ad oggi la regione Marche parla appunto dicendo non ha un piano degli acquedotti l'Ato sta portando avanti le direttive che l'assemblea dei sindaci si è data grazie ai fondi PNRR abbiamo ottenuto un importante finanziamento che ci aiuterà a ridurre le perdite a livello provinciale grazie a un investimento di circa 28 milioni di euro diciamo questa intanto è la soluzione trovata dalla nostra provincia nella tesa e nella speranza che la regione Marche appunto intervenga sulla questione idrica e sul piano acquedotti un tema che ritorno a far discutere di cui non se ne parlava da un po' è quello che riguarda Casa VL non può restare un'incompiuta il gruppo di Fratelli d'Italia che va in pressing sull'amministrazione per reperire i fondi vogliamo sapere quale sarà il destino di questa importante struttura sportiva spiega in proposito la capogruppo Serena Boresta occorre dare risposte legittime alle domande dei cittadini e da una grande opera passiamo a un'altra ovvero quella che riguarda l'auditorium Scavolini che si completa sempre più di fatto questa mattina ci sarà il taglio del nastro per la cop legata a Villa Fastigi si inaugura dunque il market che si aggiunge alla zona che appunto fa da ponte tra il centro e il mare pesarese Stelle Flaminia invece ha fluttuato solo un weekend parliamo sempre dunque dell'opera che riguarda la rotatoria di Loreto vele attorcigliate già smontate dal comune Vimini l'installazione sarà ripristinata appena possibile intanto l'ironia corre via social l'opera installazione realizzata da Lamberto Pignotti per Pesaro 20-24 inaugurata appena venerdì scorso nella rotatoria di Largo Madonna di Loreto ieri è stata appunto spogliata delle sue vele in basso vediamo uno spazio dedicato a Maoloni che è morto lo storico sindacalista e dirigente il funzionario comunale era nato nel 1944 a Poggio di Bretta e di fianco un altro lutto all'addio alla pediatra Michelina Tirone i funerali oggi alle 17 a Santa Croce rimaniamo in tema politico e rimaniamo sempre in quelle che sono le voci e le parole dei consiglieri d'opposizione questa volta a parlare Marco Lanzi festa in spiaggia per Biancani la legge è valida a fasi alterne forte del suo passato da sindacalista si ulpo Lanzi attacca sindaco e giunta dire che nessuno farà multe se pochi ballano è un'assurdità come dire che una legge si può applicare o meno a seconda delle persone coinvolte sulla destra vediamo dalla regione un milione per la capitale della cultura è la risposta del consigliere dei civici rossi che ribatte a Ricci andiamo nella città ducale andiamo a Urbino dove la prima parte della notizia è dedicata all'aggressione avvenuta a Gredì Commerciante a Martellate bambini condannato a 5 anni e 4 mesi il regale della vittima soddisfatti l'avvocato Asole aspetto le motivazioni poi faremo appello era appunto l'ottobre 2023 quando venne questa aggressione vicino al Conad di Fermignano dove prima ha tentato di investire con la propria auto Matteo Bastianelli e poi non pagolo aveva anche colpito la testa con un martello sempre su Urbino appena sotto il Rotaract Urbino riconferma la presidenza Busà e dona un assegno di 700 euro al reparto pediatria dell'ospedale andando verso Fano dunque ritornando sulla parte della costa parliamo dell'ex seminario per gli studenti del Nolfi spazi della caserma Paolini per 13 classi sono 300 i ragazzi della scuola superiore da ricollocare serfilippi sopralluoghi e confronti il sindaco sta di fatto cercando una soluzione per evitare che i 300 studenti del liceo vengano indirizzati nei moduli abitativi il nuovo sindaco si è impegnato a studiare diverse ipotesi in linea con le aspettative e le esigenze del Polo visto che avevamo parlato di finanziamenti per associazioni nella pesarete lo facciamo anche per quelle che riguardano il Fanese con una particolare classifica che riguarda le manifestazioni per Fano Jazz Network 120.000 euro è la regina dell'estate appunto l'elenco dei fondi per le maggiori manifestazioni passaggi festival convenzione in scadenza vediamo appunto se Fano Jazz si classifica primo con 120.000 euro di beneficio a seguire c'è passaggi festival con 100.000 e sull'ultimo gradino del podio la Fano dei Cesari con 85.000 euro concludiamo le notizie che riguardano i comuni prima di passare a quelle sportive con la pagina del Corriere di Val Metauro lavoro e supporto alle donne cloud tre sportelli per orientare un'equip di esperti sta realizzando il progetto per fondazione Caritas sono 53 le donne che nei primi sei mesi di esistenza hanno fruito dei servizi del progetto che accompagna di accompagnamento del mondo socio-laborativo messo in campo dalla fondazione Caritas parliamo adesso di sport prima però arriviamo intanto alla pagina dedicata allo sport prima però andiamo un po' a vedere i vostri commenti sui nostri canali social vediamo appunto il buongiorno dei tantissimi telespettatori e telespettatrici c'è chi scrive appunto il caldo scalda il cervello a chi è violento in riferimento ad alcune delle notizie appunto probabilmente che abbiamo letto questa mattina i complimenti che vengono fatti all'ex poliziotto e al giovane per aver salvato l'anziano che ha tentato il suicidio un buongiorno che ci arriva anche da Morciola tantissimi i saluti di questa mattina un altro commento che riguarda l'asticità dunque AFA protagonista anche nei nostri commenti sui social dice appunto non serve costruire nuovi invasi ma unge pulire dai fanghi e detriti quelli esistenti afferma Angelo sulla nostra pagina Facebook buongiorno a tutti continuando il buongiorno un altro appunto 7N milione visto che Procide Bergamo e Borriccia come capitale della cultura questo un attimo perché l'inizio penso sia ok penso sia un milione ecco quel 7 in realtà è una U e il riferimento appunto ai finanziamenti che la regione ha dato a Pesaro capitale della cultura e viene fatto il confronto con Procide Bergamo dove le regioni diedero rispettivamente 15 e 12 milioni quindi parliamo facile fare il calcolo di 15 e 12 volte tanto di finanziamento io direi di passare allo sport visto che comunque il tempo per la rassegna sta giungendo alla sua termine e apriamo con la vis raccontataci dal Corriere Adriatico vis il maxigruppo Suda con Stellone al Benelli si unisce anche il giovane difensore Alessandro Larosa sono stati aggregati inoltre i giocatori Busato Tavernaro e Okoro vediamo appunto Alessandro Larosa difensore under ufficializzato nella giornata di ieri accordo raggiunto con la Juve Stabia 1907 per l'acquisizione a titolo definitivo è un classe 2002 con un contratto che fermerà biennale fino al 30 giugno 26 Larosa può ricoprire anche lo stesso ruolo di Lorenzo da Pozzo che in questi giorni si sta allenando con il Venezia squadra che si prepara ad affrontare la Serie A guidata da Eusebio Di Francesco e Lorenzo da Pozzo che potrebbe tornare un altro anno a vestire la maglia bianco-rossa Venezia che è protagonista di quest'estate vicina visto che il primo test sarà proprio con l'oro e poi con il Monze insomma una preparazione da Serie A per i bianco-rossi di Pesaro subito sulla destra invece vogliamo dare un impulso a tutto lo sport di Fano Petrucci chiarisce le finalità del neonato consorzio di cui avevamo parlato ieri e aggiunge ora concentriamoci sui passi da compiere fatto il Fano Sport bisogna fare il Fano Calcio parla appunto di come questo consorzio non si tratta di una nuova società calcistica fanese bensì di un gruppo di imprenditori locali che si metteranno che metteranno a disposizione le risorse economiche proprie per finanziare e promuovere realtà sportive del territorio l'obiettivo è quello di dare un importante impulso allo sport cittadino a 300 gradi e non solo al calcio appena in basso invece una notizia che riguarda il Montecchio Gallo la fusione che ha riguardato le due società che ora militeranno in eccellenza scalde motori una settimana alla via la squadra di Maggi ha già definito il programma dei test tra sette giorni esatti mercoledì 24 luglio il Montecchio Gallo di mister Giuseppe Maggi comincerà a lavorare sudare e conoscersi passiamo passiamo allo sport invece raccontato dal QS del resto del Carlino sempre aprendo con i biancorossi della Vispesaro che anche qui ci raccontano del nuovo colpo in fascia è la rosa e al raduno arriva anche Patron Bosco e la presidente osserva l'organico che prende forma intanto ufficializza due michevoli appunto quelle con Venezia e Monza Urbino invece per la difesa torna giovane qui il gioco di parole doppio acquisto major il difensore appunto qui in fotro vedete Lorenzo giovane torna Urbino dopo due anni sostituirà Filippo Magnani andato invece alla Vis in bianco rosso un'altra parentesi sul Fanno Sport ora si attende la squadra di calcio diverse le personalità locali che potrebbero ricoprire ruoli tecnici e dirigenziali nella nuova società intanto arriva il plauso della giunta diciamo quindi anche l'obiettivo riuscito da parte del sindaco del comune di cercare di dare una nuova linfa al mondo del calcio fanese e in questo caso a tutto lo sport appena in basso una notizia che riguarda il CSI Fanno e Pesaro fanno il pieno pensate oltre 300 atleti alle finali nazionali si parla in questo caso di calcio a 11 e calcio a 7 concludiamo con le ultime due notizie di sport con la VL a caccia dell'uomo giusto fra Summer League e Olimpiadi Sacripanti dice stiamo provando a prendere il meglio possibile per le nostre risorse ce la metteremo tutta l'ultima notizia di sport che andiamo ad affrontare quella che riguarda il Blue Volley confermato il Timoriniere sarà ancora Luca Nanni l'allenatore con queste notizie di sport concludiamo quelle che sono appunto le letture dei quotidiani prima di salutarci però andiamo a vedere cosa ci attende oggi su Rossini TV a partire dalla natura della cultura che seguirà appunto proprio buongiorno Rossini al suo termine vediamo la programmazione alle 8 poi alle 13 e poi alle 20 lunedì mercoledì e venerdì oggi si approfondirà il tema di quella che è un'estate di eventi tra borghi e quartieri oltre 65 gli appuntamenti previsti in programma a seguire dal tema della cultura passiamo al tema della politica con amministrando che va ad intervistare nuovi sindaci in questo caso il protagonista sarà Palmiro Ucchielli l'onorevole sindaco di Vallefoglia confermato per un terzo mandato in ora in onda questa sera alle ore 21.20 e poi come vedete in grafica le repliche giovedì venerdì sabato domenica e lunedì e poi ovviamente c'è l'appuntamento fisso come ormai è da tradizione che conoscerete già tutti con il nostro telegiornale Rossini News in onda alle 19.30 con replica alle 20.30 23.30 e a mezzanotte e 30 e il giorno seguente alle 6.30 quindi praticamente prima della rassegna per i più mattutini e per chi vuole la compagnia a pranzo alle 13.30 bene telespettatori e telespettatrici il nostro buongiorno Rossini termina qui la nostra rassegna di oggi si conclude io prima di lasciarvi al meteo voglio augurarvi una buona giornata un buon proseguo qui con noi su Rossini TV